Cari cittadini della Russia, le scrivo in relazione a questo sanguinoso e barbaro atto terroristico, le cui vittime sono state decine di civili innocenti, nostri compatrioti, tra cui bambini, adolescenti e donne. I medici stanno ora lottando per la vita delle vittime, quelle che sono in gravi condizioni. Sono sicuro che faranno tutto il possibile e anche l'impossibile per salvare la vita e la salute di tutti i feriti. Vorrei esprimere la mia particolare gratitudine agli equipaggi delle ambulanze e delle gliambulanze, alle forze speciali, ai vigili del fuoco e ai soccorritori che hanno fatto di tutto per salvare la vita delle persone, tirarle fuori dall'incendio, dall'epicentro dell'incendio e del fumo, ed evitare perdite ancora maggiori. Non posso ignorare l'aiuto dei comuni cittadini, che nei primi minuti dopo la tragedia non sono rimasti indifferenti e indifferenti e, insieme ai medici e ai servizi speciali, hanno prestato i primi soccorsi e portato le vittime negli ospedali. Forniremo l'assistenza necessaria a tutti, a tutti coloro la cui vita è stata colpita da una terribile disgrazia, i feriti e i feriti. Esprimo le mie più sentite e sincere condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro parenti e amici. Insieme a voi, l'intero paese, tutto il nostro popolo è in lutto. Dichiaro il 24 marzo giorno di lutto nazionale. A Mosca e nella regione di Mosca sono state introdotte ulteriori misure antiterrorismo e antisabotaggio in tutte le regioni del paese. La cosa più importante ora è impedire a coloro che sono dietro questo bagno di sangue di commettere nuovi crimini. Per quanto riguarda le indagini su questo reato e i risultati delle azioni di ricerca operativa, si può ora dire quanto segue. Tutti e quattro gli atti terroristici diretti, tutti coloro che hanno sparato e ucciso persone, sono stati trovati e arrestati. Hanno cercato di nascondersi e si sono spostati verso l'Ucraina, dove, secondo i dati preliminari, è stata preparata una finestra per loro dal lato ucraino per attraversare il confine di Stato. Un totale di 11 persone sono state arrestate. Il Servizio di Sicurezza Federale Russo e altre forze dell'ordine stanno lavorando per identificare e scoprire l'intera base di complici dei terroristi, coloro che hanno fornito loro i trasporti. Hanno delineato i modi per fuggire dalla scena del crimine e hanno preparato depositi e depositi di armi e munizioni. Per ribadire, le agenzie investigative e le forze dell'ordine faranno tutto il possibile per stabilire tutti i dettagli del crimine. Ma è già ovvio che ci troviamo di fronte non solo a un attacco terroristico accuratamente e cinicamente pianificato, ma a un omicidio di massa preparato e organizzato di persone pacifiche e indifese. I criminali sono andati a sangue freddo e intenzionalmente per uccidere, per sparare a bruciapelo ai nostri cittadini e ai nostri bambini. Come i nazisti, che una volta compirono rappresaglie nei territori occupati, progettarono di organizzare un'esecuzione dimostrativa, un sanguinoso atto di intimidazione. Tutti gli esecutori, gli organizzatori e i clienti di questo crimine saranno giustamente e inevitabilmente puniti, chiunque essi siano, chiunque li diriga. Per ribadire, identificheremo e puniremo tutti coloro che stanno dietro ai terroristi, che hanno preparato questa atrocità, questo attacco alla Russia, al nostro popolo. Sappiamo qual è la minaccia del terrorismo e attendiamo con impazienza la cooperazione con tutti gli stati che condividono sinceramente il nostro dolore e sono pronti a unire le forze nella lotta contro il nemico comune, il terrorismo internazionale e tutte le sue manifestazioni. I terroristi, gli assassini, i non umani che non hanno e non possono avere una nazionalità affronteranno un destino poco invidiabile di punizione e oblio. Non hanno futuro. E il nostro dovere comune ora, quello dei nostri compagni d'armi al fronte, di tutti i cittadini del paese, essere insieme nelle stesse file. Credo che sarà così, perché niente e nessuno può scuotere la nostra unità e la nostra volontà, la nostra determinazione e il nostro coraggio, la forza del popolo unito della Russia. Nessuno sarà in grado di seminare i semi velenosi della discordia, del panico e della discordia nella nostra società multietnica. La Russia ha attraversato ripetutamente le prove più difficili, a volte insopportabili, ma è diventata ancora più forte. E così sarà ora. E ora. Grazie.